E' stato il giorno di uno dei grandi accusati per il crack di Banca Etruria. In aula questa mattina, infatti, l'ex direttore generale dell'Istituto di Credito Aretino, Luca Bronchi, per la procura di Arezzo, uno dei principali imputati assieme all'ex presidente Giuseppe Fornasari. Conclusa l'istruttoria è dunque arrivato il momento dell'avvio dei riti abbreviati. Presi in esame le posizioni dei quattro imputati che hanno chiesto il rito alternativo, l'ex presidente Giuseppe Fornasari, l'ex direttore generale Luca Bronchi, l'ex consigliere Rossano Soldini ed infine l'ex vicepresidente Alfredo Berni, che aveva chiesto il rito abbreviato condizionato ad una perizia, richiesta però non accolta. Il primo ad essere ascoltato è stato proprio Luca Bronchi, l'ex direttore generale sino al giugno 2014, sul quale pendono numerosi capi di imputazione. In aula Bronchi è stato chiamato a chiarire alcuni aspetti relative ai finanziamenti concessi dalla banca e che dalla procura vengono contestati come dissipazioni o distrazioni del patrimonio dell'istituto di credito che portarono al conseguente dissesto. Si va dalla vicenda privilege a quella del finanziamento Sacci ed ancora il caso del resort a San Carlo Borromeo. A Bronchi dunque spetterà a chiarire in aula la propria posizione. La difesa dell'ex direttore generale ha presentato anche una consulenza di parte nella quale si sostiene che i crediti concessi non furono distrazioni, bensì operazioni che rientrerebbero nella normale attività bancaria. Abbiamo depositato anche molti documenti che non erano presenti nelle indagini, anche questi sono documenti che verranno poi esplicitati e chiariti e spiegati ove necessario nel corso dell'audizione. L'esame di Bronchi si concluderà nel corso delle prossime udienze. Una volta che sarà esaurito l'interrogatorio esame dell'imputato Bronchi diciamo che gli abbreviati potrebbero essere pronti per la discussione.